... Bello ora insomma, è proprio più caldo, non si può perché c'è la giuria in fase di decisione quindi siamo nel bel mezzo della parte più critica dell'edizione del cosplay qui a Capaco devo dire che è la prima edizione per me invernale, sono stata già ospite ad altre edizioni estive all'area mercatale, quindi era una novità per me venire quello spazio marco una novità molto interessante, molto bella riuscita devo dire perché l'arena è sicuramente un posto ideale per la visione non solo dei cosplayer ma anche della giuria in maniera di avere un'idea molto chiara di quelli che sono i costumi e le interpretazioni, i ragazzi ci sono prestati ben volentieri il pubblico ha risposto molto bene, ogni volta che vengo devo dire anche che vedo un implemento a livello di costumi e di tecnica da parte dei ragazzi e questo non può farmi che piacere anche perché comunque è vera a sé che da un'edizione invernale o da un'edizione estiva il tipo di costumi che vengono portati sono anche differenti, insomma all'estate c'è caldo quindi si cerca di scoprirsi un pochino di più, è vero che qui fa caldino e si potrebbe anche osare però è anche vero che insomma l'inverno ti porta a fare delle scelte diverse non guardate me che non c'entro e non faccio testo Allora sicuramente i ragazzi, almeno per quanto ho avuto possibilità di parlarci sia durante l'esibizione che comunque qui nei camerini, negli spogliatoi eccetera amano la parte creativa del costume, è chiaro che c'è chi non può permettersi di realizzare satorialmente le cose quindi magari si fa aiutare o piuttosto lo compra e lo dice anche io apprezzo molto questa sincerità da questo punto di vista perché è vero che non tutti possiamo essere sarti, io sono la prima che si fa aiutare dei genitori da sempre anche se chiaramente col tempo ho aumentato le mie schisse, non vorrei ben sperarlo però vedo che ci mettono del loro in tutto, negli accessori, nei particolari, nei dettagli e soprattutto anche a livello di performance e medesimazione del personaggio potrei citarti ad esempio Edward Manny Forbice che abbiamo visto qui nella sfilata che pur avendo appunto un costume comperato ha fatto un'esibizione che era perfettamente in match con il Johnny Depp del film di Barton e ha stupito tutti quanti, ha impressionato con questa sua trasformazione e le formine di carta come poteva essere proprio Edward nel film quindi questa parte creativa, questo lato player è molto molto sentito e questo non può che far bene al cosplay che è sicuramente un'attività ludica prima di tutto a me piace pensare che è nascita fin da piccola ho una foto di quando avevo due anni in visita da Heidi e quindi mi piace pensare che il cosplay si nasce oppure che mi hanno inculcato i miei genitori, è colpa loro, se ho fatto Heidi io non volevo e quindi l'amore per i cartoni animati giapponesi si è proprio trasportato nel tempo e si è declinato in varie forme, prima con il teatro, poi con il cosplay, i costumi, le foto, le performance e anche il mio lavoro attuale, ti lo sommarlo è tutto un percorso che in qualche maniera è afferente a questo mondo del cosplay e questo non vuole farmi piacere in tutti i futuri tanti, adesso sto collaborando con Media World per la produzione di un programma di videogiochi si chiama Game Club, potete vederci sul canale di Media World su YouTube ma anche in tutti gli store di Media World e di Saturn sono con i ragazzi di Every Eye, abbiamo questo programma in cui insomma recensiamo videogiochi, news eccetera dopodiché sempre nell'ambito videoludico sto collaborando a un evento molto importante si chiama il Drago d'Oro che avrà diciamo il suo squaw a marzo ed è una sorta di gran galà del videogiochi, un po' come c'è già l'Oscar per i cinema piuttosto che il gran galà della pubblicità eccetera pensate che all'estero questo galà con nomi differenti è già vissuto è già sentito molto molto forte al punto che a Londra c'erano le premiazioni niente meno che Sean Connery certo io non sono Sean Connery, non lo sarò mai però ho avuto la possibilità e il piacere di collaborare e di presentare questa serata a marzo, questa serata di gala con tutti i grandi nomi del videogioco internazionale e questo insomma è sicuramente un evento di punta a cui vi invito ad assistere e a tenere d'occhio un saluto a tutti gli amici di Cava dei Tirreni che anche per questa edizione mi hanno voluto qui con loro mi fa piacere insomma sapere che avete voi per primi piacere ad avere me con voi e io torno sempre con piacere per quanto mi è possibile e un saluto anche agli amici del Marte qua mi dicono dalla regia che è sicuramente uno spazio interessantissimo pieno di attività e il Cava Con ha trovato una collocazione più che degna grazie 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 grazie